Un'aeronautica con la gente e per la gente. Un nuovo prodotto editoriale, la fabbrica del volo. Ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale. Migliaia di ore di volo anche quest'anno per gli equipaggi e di velivoli dell'aeronautica militare. Tra interventi su scramble, trasporti sanitari d'urgenza, ricerche e soccorso di persone in difficoltà, gli uomini e le donne della Forza Armata garantiscono i servizi necessari ad assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati all'aeronautica militare, oltre a quelli svolti in dual use, ovvero a favore della collettività, come nel caso di circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza, come sancito dall'articolo 89 del Codice dell'ordinamento militare. Sempre operativa dunque l'aeronautica militare 365 giorni l'anno, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Anche nelle festività natalizie, gli uomini e le donne della Forza Armata assicurano gli importanti compiti al servizio della collettività, quali la difesa aerea, il trasporto sanitario d'urgenza a favore di persone in imminente pericolo di vita, la ricerca e il soccorso di persone disperse o in difficoltà e molteplici altre attività. Per un approfondimento su quali sono i servizi ininterrotti che l'aeronautica militare garantisce, visitate il nostro sito al link in sovrimpressione. Un racconto tra industria, aviatori e memoria della Grande Guerra in Liguria, in un nuovo volume edito da Finisterre. Vediamo il servizio. Ad un secolo di distanza dalla Prima Guerra Mondiale, un prodotto editoriale che racconta la nascita dell'industria aeronautica. Un libro storico dal titolo La fabbrica del volo, scritto da Fabio Caffarena e Carlo Siaccini, testi corredati da foto e memore che si fondono nel racconto. 238 pagine che spiegano come i processi di militarizzazione territoriale hanno portato la Liguria ad assumere un ruolo strategico molto importante in campo aeronatico. La produzione di moderni ed affascinanti perivoli militari, tra cui il famoso Anzaldo Sva, di formidabile valenza iconica, segnalano in modo profondo e duraturo lo sviluppo industriale post bellico. Storie di uomini e macchine, di Liguri, che con il carattere di gente di mare e di loro impegno hanno donato un contributo significativo durante il conflitto. Per oggi è tutto, Videonews termina qui. Anche quest'anno siete stati molti a seguire l'aeronautica militare sui social network e sul canale YouTube. Non ci resta quindi che ringraziarvi ancora una volta per il consenso e le innumerevoli dimostrazioni di apprezzamento che ogni giorno ci fate arrivare attraverso le condivisioni dei nostri contenuti e di like. Buon anno da tutti noi!